Il contratto rinnovato in IMA è importante proprio dal punto di vista della proiezione di questa azienda e per i lavoratori ovviamente di questa azienda. Ha contenuti innovativi, uno su tutti è anche di interesse ambientale per rispetto all'ambiente, uno degli indicatori del premio di risultato e questo innovativo è sulla riduzione delle emissioni di CO2. L'abbiamo giudicato uno degli aspetti positivi. Altri aspetti molto positivi dell'accordo sono i percorsi formativi interni ed esterni all'azienda. IMA è un'azienda tradizionalmente che fa molta formazione e contrattata da organizzazioni sindacali, in questo caso c'è un ulteriore passo avanti anche per i percorsi formativi esterni. Resta un po' il limite di non essere ancora riusciti ad estenderle per tutte le tipologie del sapere. C'è il grande tema delle relazioni sindacali che fanno parte della tradizione di questa realtà industriale, si è sempre dato peso a questo tema per avere le aziende in clima giusto per produrre meglio, per ridurre anche la conflittualità. Voi avete previsto un passaggio specifico sulle relazioni sindacali? Sì assolutamente, all'interno di questo accordo si costituisce il CISI che è un comitato di indirizzo inter-sindacale, inter-aziendale, unitario che rappresenta tutte le aziende di questa che ormai è una multinazionale a tutti gli effetti del territorio italiano che abbiano più di 100 dipendenti. È uno strumento necessario per affrontare anche Industria 4.0 le fasi di innovazioni che ci attengono da qui a posto. È un aspetto assolutamente importante di questo accordo. Un altro aspetto che voglio sottolineare da questo punto di vista per il tono delle relazioni sindacali è la precisione nel rinnovo della contrattazione. Anche questo è un elemento che caratterizza le relazioni sindacali. Questo rinnovo arriva esattamente alla scadenza del precedente accordo integrativo aziendale. Quindi esprimiamo soddisfazione anche da questo punto di vista. Siamo con Massimo D'Alessandro, delegato della FIOM dell'IMA, coordinatore dell'RSU dell'IMA. Ti volevo chiedere, è stato firmato un accordo molto importante, quali sono gli aspetti che reputi più innovativi di questo accordo? Certo, intanto un aspetto che forse non è così innovativo, ma perché per l'IMA è naturale, è sempre stato così, è la grande partecipazione al voto, ovvero hanno votato questo accordo quasi 1200 lavoratori su circa 1250 presenti nei 4 giorni di voto. Quindi la grande partecipazione al voto. La tradizione democratica, in IMA si sono sempre votati gli accordi unitariamente, anche quando a livello nazionale con le altre organizzioni sindacali c'erano dei problemi. Quindi i lavoratori dell'IMA hanno sempre valorizzato questo atteggiamento. Questo accordo dal mio punto di vista si basa su quattro pilastri. Il primo è la formazione, quindi guarda avanti, guarda il futuro, guarda la quarta rivoluzione industriale. I figli dei dipendenti e dipendenti saranno valorizzati per percorsi formativi. I figli dei dipendenti perché vuol dire guardare ancora più avanti. L'attenzione all'ambiente, un indicatore sul quale si basa il premio di risultato è la riduzione delle emissioni di CO2, mobilità sostenibile, progetto di smart working che noi preferiamo chiamare permessi di lavoro da casa, sul quale nel prossimo anno ci saranno incontri con l'azienda. Le relazioni sindacali, il fatto di aver costituito il CISI, che questo comitato interaziendale, l'indirizzo sindacale, composto dalle quattro società IMA sul territorio italiano con più di 100 dipendenti, che si consente a scopo consultivo di incontrarci su tematiche trasversali che interessano tutto il gruppo. In un'azienda che cresce alla velocità di CISI ma è fondamentale avere questo rapporto, questa relazione ufficiale, ufficializzata con l'azienda. Poi c'è la parte economica che porta un aumento annuale di circa 300 euro sui premi. A regime porterà questo accordo un consolidato di circa 1.100 euro che sarà erogato annualmente, che diventa fisso. Quindi quando si dice non ci sono soldi fissi, no, ci sono soldi fissi perché saranno circa 1.100 euro, ma deriveranno da un premio di risultato variabile. Su questo fisso comunque sono inseriti degli indicatori, andando sotto i quali non sarebbe erogato, ma andando sotto questi indicatori sarebbe un grosso problema. Questo però ci consente di poter gestire la dipassazione. Inoltre già da maggio del 2018 percepiremo circa 1.000 euro di consolidamento del contratto precedente. Quindi se li mettiamo tutti assieme nella vigenza di 3 anni, 3 anni e mezzo, noi andremo a percepire i 1.000 euro a maggio 2018, 1.100 euro a maggio del 2021, all'interno ci sono 2.300 euro che tutti gli anni saranno erogati di premio di risultato, capite che è un valore economico considerevole che penso che abbia pochi uguali sul territorio, quindi può essere un punto di riferimento. Questi penso che siano i punti importanti e valorizzanti di questa cosa. Grazie mille.